Ragazzi miei, ciao a tutti. È l'ultimo video dell'anno e quindi spero che il vostro 2022 possa essere stato bello e affascinante. Io devo dirvi una verità, mi sono divertito. Mi sono divertito tanto insieme a voi, mi sono probabilmente divertito o meno con la Juve sia dal punto di vista dello spettacolo, sia dal punto di vista dei risultati sportivi, sia anche dal punto di vista, se vogliamo, con questo ultimo mese e mezzo abbastanza travagliato, ultimi 40 giorni abbastanza travagliati. Però dall'altra parte questo canale YouTube è tutto quello che è collegato, quindi il profilo Twitch, il profilo Instagram, il profilo Twitter, la pagina Facebook, quindi tutti i social collegati e lo stesso TikTok che è stato implementato all'interno della catena di social network che utilizzo mi hanno fatto conoscere persone interessanti, mi hanno fatto leggere opinioni assolutamente precise e puntuali, anche ovviamente cose che non condivido ma che ovviamente rispetto. E poi vabbè c'è quella percentuale di commenti cattivi che non possono mai mancare nel mondo di internet, ma questo non fa parte assolutamente della nostra community. Sono persone che semplicemente cercano di intrupolarsi a forza, ma non è il tipo di comportamento che solitamente voglio o anzi esigo da chi decide di seguire il calcio nel modo in cui credo sia più corretto, quindi quello dell'amore effettivamente per lo sport, che va a focalizzarsi, a concretizzarsi all'interno dei colori bianconeri. Ora, è stato davvero un anno difficile quello che si è chiuso per la Juve perché secondo me è stato l'anno del ridimensionamento bianconero non annunciato, cioè non è stato un momento in cui la società Juventus è arrivata, ha preso i fogli, li ha messi giù e ha detto bene, ci stiamo ridimensionando, no, non è andata così, lo ha detto il campo, lo ha detto il campo perché è stato un lento declino e quel declino inizia, per quanto mi riguarda, ma l'ho già detto tante volte, ci sono dei video in cui analizzo gli errori della dirigenza bianconera che sono stati fatti un paio di anni fa, in cui vi dico, secondo me la Juve sta iniziando a lavorare male da, adesso, in questa finestra temporale almeno 4-5 anni, quel declino inizia con l'addio di Beppe Marotta e pian pianino vediamo che diventa sempre più complicato portarsi a casa cose che prima erano scontate, no? Perché prima di Ronaldo noi eravamo abituati a portarci a casa sempre un paio di trofei a stagione e quindi eravamo abituati, come si dice delle mie parti, al brodo grasso, perché in Emilia il brodo più è grasso più è buono eravamo abituati molto bene al brodo grasso, eravamo abituati ad andare avanti anche in Champions se non arrivavamo in finale venivamo eliminati comunque tra i quarti, le semifinali, invece no iniziamo a uscire anche agli ottavi di Champions, nell'anno di Maurizio Sarri iniziamo a vincerlo scudetto risicato di un paio di punti, di un punto sull'Inter arriviamo a non vincerlo proprio con Pirlo, continuiamo a non vincerlo con Allegri nell'ultimo anno, il 2022 arriviamo nemmeno a vincere un trofeo, sempre uscendo agli ottavi in Champions con difficoltà addirittura nella qualificazione negli ultimi due anni quindi questa è stata ufficialmente l'annata secondo me del ridimensionamento in cui smetti di essere quella squadra che tutti gli anni arrivi classifica di Serie A alla mano e dici ma lo vince la Juve inizia ad essere una squadra normale e dici la Juve lotterà per le prime quattro posizioni e poi può andare avanti, io quest'estate dicevo secondo me la squadra che vincerà lo scudetto è il Milan che ha già vinto l'anno scorso, che ha una base solida poi ci sono Juve e Inter che possono comunque giocarselo avevo probabilmente ignorato il Napoli che in questo momento è la squadra da battere io quando leggo di corsa a scudetto rido, semplicemente sorrido perché secondo me oggi non c'è una vera e propria corsa a scudetto oggi c'è il Napoli che sta facendo il suo campionato, un campionato a parte dietro ci sono le altre che aspettano che possa cadere ma il 2023 inizia già con una sfida difficile per il Napoli contro l'Inter e poi un paio di settimane dopo ci siamo noi e vedete che lì possono iniziare ad incastrarsi alcune cose però dobbiamo mettere da parte quello che è stato il 2022 e abbracciare un nuovo 2023 che può essere più positivo o più negativo quando prima vi dicevo che è arrivato un certo punto in cui le cose sono iniziate ad andare male è curioso vedere come sia stato in concomitanza l'arrivo di Cristiano Ronaldo che in teoria deve farti fare quello step successivo e lo diciamo nell'ultimo giorno dell'anno in cui proprio Cristiano Ronaldo firma il suo contratto che lo fa uscire tra virgolette dal calcio che conta va a giocare in un club assolutamente minore lo fa per una questione puramente economica io non avrei mai pensato di vedere Cristiano Ronaldo in una dimensione del genere eppure eccolo lì anche lui ha tratto al fascino dei soldi, tanti soldi, troppi soldi è un nuovo tipo di calcio è un nuovo tipo di calcio che forse perché sono ancora un po' troppo romantico però la mia parte razionale poi te lo fa capire te lo mette chiaro sul tavolo non posso nemmeno immaginarmelo un miliardo di euro come possa essere fatto e quindi Ronaldo sceglie di essere ambasciatore anche per un eventuale mondiale 2030 vediamo che cosa accade però ragionare oggi su quello che è stato il declino di Ronaldo pensare al declino della Juve anche collegato a Ronaldo al fatto che se ne va l'ultimo giorno in mercato al fatto che poi lo United fa un po' così così e poi addirittura va a giocare in una squadra che tutto rispetto non esiste ad alti livelli ti fa capire che si sta avanzando proprio con gli anni siamo nel 2023 dall'altra parte c'è una Juve che prima dicevo ridimensionamento ma ridimensionamento non è una brutta parola cioè non dimentichiamoci che noi con Calciopoli siamo stati si ridimensionati perché siamo stati spediti in serie B proprio dalla serie B siamo tornati su nel giro di pochi anni abbiamo fatto un percorso che ci ha portato 10 anni di successi io sfido trovare una squadra in serie A che non firmerebbe un'annata in B per 10 anni di successi trovatemela una squadra in serie A che non firmerebbe per fare il percorso che abbiamo fatto noi dal 2006 in poi io ora non credo che la Juventus retrocederà nuovamente per i leciti sportivi poi vediamo ovviamente la palla passerà alla giustizia sportiva però per quello che ci è parso di aver capito di aver letto di aver intuito potrebbero esserci qualche punto di penalizzazione potrebbe esserci qualche multa potrebbe esserci qualche ripercussione a livello penale per i protagonisti però a livello sportivo la Juve non credo che rischi così tanto ma ripeto guardiamo adesso godiamoci il fatto che si torna in campo e poi quel ridimensionamento lì ti ha fatto venire fuori anche dei giocatori che prima probabilmente non avrebbero trovato spazio come Marchisio ora è un altro tipo di ridimensionamento il nostro perché è semplicemente un ridimensionamento sportivo a livello di si vince meno o non si vince proprio rispetto al passato però ecco i fagioli, i miretti i tanti giocatori che sono stati inseriti anche dalla next gen alla prima squadra mi viene in mente Iling che ha rinnovato mi viene in mente Ake che probabilmente giocherà con la Cremonese mi viene in mente Sulechi ieri comunque ho fatto gol su rigore iniziano ad esserci tanti giocatori che entrano nell'orbita e vanno a creare una sorta di zoccolo non duro perché non sono ancora duri lo zoccolo duro devono farlo altri ma uno zoccolo che può diventare duro per il futuro il 2022 è stato anche l'anno in cui è stato acquistato Vlaovic l'anno in cui si è infortunato Chiesa l'anno in cui è tornato Pogba l'anno in cui Di Maria e Paredes sono diventati campioni del mondo con la maglia della Juve sono accadute tante cose a livello Juve alcune positive, alcune meno e anche l'anno, il 2022 in cui chiudiamo interrogandoci sul futuro della Juventus e con questo exploit di notizie che è iniziato ad arrivare a fine novembre ci portiamo dietro anche un cambio di presidenza di dirigenza della Juventus salutiamo Agnelli dopo una decade abbondante di Juventus dopo tanti trofei il presidente più vincente della storia della Juve costretto a rinunciare per motivi che conosciamo tutti il presidente che per quanto mi riguarda da qualche anno a questa parte non aveva più preso decisioni coerenti rispetto a quelli iniziali che avevano portato la Juventus a rigenerarsi a risorgere dalle ceneri come l'araba fenice il tempo passa per tutti gli errori li fanno tutti ed ora è il momento semplicemente di guardare avanti quindi ridimensionarsi ancora rispetto a un recente passato in cui eravamo la squadra a battere ora si è la squadra che sta ricostruendo per tornare a vincere anche se comunque qualche errore ce lo stiamo portando dietro di campagna e campagna di sessioni e sessioni e anche tante intercettazioni comunque che sono venute fuori o che abbiamo riletto in questi ultimi mesi ci hanno dato la dimensione di una squadra a livello di uomini che la gestiscono che erano in contrapposizione tra di loro anche proprio a livello di ideologie di meccanismi da portare avanti per appunto portare avanti una squadra come la Juve e infatti abbiamo visto tante persone che sono uscite tante persone che sono rientrate qualche anno fa mettavamo Ricci, Re Paratici al centro dell'area tecnica della Juve oggi di questi non c'è più nessuno e poi Chirubini arriva bene attenzione che possa ripartire anche loro c'è un nuovo CDA e Massimiliano Allegri che è stata una figura contestatissima in questi mesi proprio perché dal punto di vista sportivo i risultati non arrivavano nel tifoso della Juve diceva ragazzi ma questo non può essere accettabile tanto rispetto per Allegri tutto quello che ha portato negli altri anni ma stiamo vedendo troppo poco e perché non si cambia e perché non si prende in considerazione e perché non parlano e poi ci si è reso conto che probabilmente la Juventus in quei mesi si dava un occhio al campo ai risultati sportivi ma con l'occhio di riferimento invece guardava qualcos'altro un'altra vetta e addirittura notizia che ad oggi non è stata confermata è una notizia che è apparsa io difficilmente riuscirei a considerarla falsa perché su me è un ragionamento che ci sta tutto all'interno del cerchio che abbiamo seguito Allegri addirittura avrebbe dato le dimissioni e poi Elka gli avrebbe detto no Max per favore rimani fino a fine anno perché se già è saltata la testa si inizia a saltare anche il collante che c'è con la squadra e dobbiamo iniziare a preoccuparci anche di qualcos'altro qua non ne veniamo fuori e quindi ad Allegri l'area sportiva da qui a giugno io non credo che ci saranno dei colpi di mercato nel mercato 2023 come è stato nel mercato 2022 era un'esigenza differente era andato via Ronaldo non si era sostituito c'era la possibilità di incassare dei soldi freschi dalla Premier e se ci sarà anche quest'anno con Rabiot con McKennie con altri giocatori si farà ma non mi aspetto il mercato grosso quindi l'area sportiva da Allegri in questo momento secondo me significa solamente che c'è una figura di riferimento e poi si vedrà cosa deciderà di fare lui in primis a giugno perché io in questo momento se proprio devo dirvi la verità credo che Allegri accetterà di riportare la Juventus a giugno arrivare a giugno e che si vinca che si perda che ci si saluterà perché comunque è stata un'annata complicata dal punto di vista della gestione proprio dell'allenatore della squadra e sicuramente un'annata complicata anche perché se ti viene a mancare quello che più di tutti aveva voluto il tuo ritorno e ti aveva anche difeso nei momenti difficili come è stato Andrea Agnelli è ovvio che sul livello lavorativo anche i rapporti interpersonali fanno molto la differenza quindi secondo me il 2022 sarà anche l'ultimo anno in cui faremo una preparazione con Massimiliano Allegri in panchina ma per quelle che sono le informazioni in questo momento a mia disposizione vedremo sicuramente è stata un'annata in cui abbiamo discusso tanto ci siamo impegnati tanto abbiamo visto tante partite perché si sono giocate tante e ora inizial 2023 con ancora più partite perché dobbiamo recuperare il mondiale che c'è stato anche un mondiale invernale nel mezzo nel 2022 proprio per non farci mancare niente abbiamo chiacchierato di mercato abbiamo sognato le formazioni abbiamo sognato dei giocatori abbiamo salutato altri giocatori come De Litt abbiamo salutati abbiamo salutato Chiellini forse presto saluteremo anche Bonucci daremo un taglionetto al passato al primo scudetto di Conte e vedremo se non sarà proprio Conte da tornare poi effettivamente per cercare di riaprire un altro ciclo a meno che questo ciclo non venga riaperto quest'anno proprio da Massimo Iano Allegri in una rincorsa folle al Napoli c'è un'eliminazione della Champions 6 gironi da mandare giù ma c'è anche una qualificazione in Europa League da andarsi a conquistare e eventualmente una finale perché non anche un trofeo europeo che manca dal 96 quindi tante cose veramente tante cose probabilmente ne ho lasciate indietro tante altre che in questo momento non mi vengono in mente ci sono state anche diverse scomparse l'ultima non ultima nel mondo del calcio quella di Pelé proprio ieri c'è stata quella di Mijajovic quella di Sconcerti pochi minuti fa ho letto anche Papa Ratzinger che non ha niente a che vedere col mondo del calcio però questo 2022 maledetto veramente cerca di portarsi via di tutto e di più la regina veramente questa è stata una chiusura finale che è un po' triste però che ci fa capire che è stato un anno particolare da tanti punti di vista è la pandemia e tutte queste cose qui lato mio io sono soddisfatto credo di avervi sempre raccontato la Juve il calcio nel migliore dei modi credo di potermi veramente ritenere soddisfatto di quello che è stato il lavoro durante quest'anno mi dispiace che nell'ultimo mese ci siamo visti poco ma ho preso una linea chiara e cioè parlo se ce n'è bisogno non ho voglia di mettermi a registrare solo per fare il video è vero che è il mio lavoro ma non succede niente se per un mese ci prendiamo un attimo di respiro e parliamo solamente quando c'era a parlare perché tanto ho dato un'occhiata al calendario e io a gennaio credo di non potermi prendere neanche un impegno perché la Juve gioca praticamente ogni 3x2 e quindi saremo pronti a ritornare al massimo delle nostre forze con tanta voglia anche di rivedere effettivamente la Juventus in gare ufficiali e con tanta voglia di tornare a soffrire perché credo che per iniziare l'anno nuovo sofferenza sarà la parola chiave ma tanti auguri ragazzi e grazie per per essere stati qui con me in questo viaggio in questo anno grazie per esserci da quasi 10 anni perché il canale del 2014 l'anno prossimo sarà il nono anno di attività di questo canale youtube e mangiate tanto questa sera bevete altrettanto se ne avete voglia divertitevi sempre però nel rispetto delle misure di sicurezza state attenti con i petardi perché se vi salta via qualche dito poi non riuscirete a commentare questo video e nemmeno i prossimi e il 4 di gennaio si ricomincia con Cremonese Juventus ciao a tutti ragazzi un abbraccio